Gentili telespettatori, buona giornata. L'Europa verso l'obbligo vaccinale. L'Europa Unita sta proponendo, sta chiedendo agli stati membri di obbligare tutta la popolazione, quindi una sorta di spinta da parte dell'Unione Europea per vaccinare tutta l'Europa in maniera obbligatoria, rendere obbligatorio di fatto il vaccino. L'Europa si mobilita contro la variante Omicron e pensa sempre di più di introdurre l'obbligo vaccinale. Vediamo un po' la notizia nel dettaglio. La diffusione della variante Omicron anche in Europa riaccende il dibattito tra gli stati membri sull'obbligo vaccinale sì, obbligo vaccinale no. I paesi si dividono, come è ovvio, ma cresce il fronte di quelli che vogliono imporre la vaccinazione per sé e anche per gli altri stati. Qual è la posizione dell'Unione Europea? L'Unione Europea è formata da 27 paesi che settimana scorsa nella Commissione Europea avevano trovato comunque una sorta di linea comune. Ma con la nuova variante arrivata in Europa dal Sudafrica viene lanciata l'allerta. Come riporta il quotidiano La Press, il dato viene dall'Olanda dove l'istituto sanitario RIVM ha annunciato di avere individuato da alcuni tamponi due casi di Omicron che risalgono al 19 e al 23 di novembre, mentre l'allarme del Sudafrica all'OMS risale al 24 novembre. Non è chiaro però se le due persone fossero arrivate o meno dall'Africa meridionale. Intanto i paesi che in maniera autonoma stanno decidendo di andare verso l'obbligo vaccinale sono la Germania, l'Austria e la Grecia. Come abbiamo visto la Germania sta subendo la quarta ondata del Covid in maniera dirompente con decine di migliaia di contagi giornalieri, decine. Ad avanzare l'ipotesi di imporre una legge che obbliga al vaccino sono il futuro cancelliere tedesco e l'ex ministro delle finanze socialdemocratico Olaf Scholz e il suo prossimo vice il copresidente dei Verdi Robert Abeck. Restrizioni più forti anche per i non vaccinati ai quali potrebbe essere impedito l'ingresso negli esercizi commerciali non essenziali. Quindi obbligo vaccinale e chi per diverse ragioni riesce a non vaccinarsi non potrà entrare da nessuna parte se non al supermercato e in farmacia. Da qualsiasi altra parte verrebbe preclusa l'entrata. L'Austria attualmente è in lockdown, ha già approvato l'obbligo vaccinale a tutta la popolazione dal primo febbraio del 2022. Intanto sta per introdurre una legge dove ci sono multe fino a 7.200 euro per chi si rifiuta di vaccinarsi dopo due chiamate. 7.200 euro sono tanti, immaginatevi a dover pagare una multa di 7.200 euro e poi eventualmente con gli interessi se uno la paga diventa una cosa enorme, che diventa sempre più grande. Dopo il primo no, attenzione, perché dopo due volte che dici no ti arriva a 7.200, ma la prima volta che dici no ti arriva solo 3.600. Al secondo no la multa diventa il doppio, arrivano altri 3.600 e così si hanno due multe da 3.600, 7.200. Ma in Austria parlano di una norma senza alternative dal momento che nel paese i vaccinati non raggiungono il 70%. Intanto l'unica incertezza riguarda il pagamento degli importi che potrebbero essere adattati in base alla fascia di reddito del singolo Novax. Ad esempio se sei ricchissimo può essere 70.000, se sei di classe media 7.000, se sei poco abbiente magari 700 euro. Sta di fatto che verranno stabilite delle multe che siano comunque pesanti per qualunque persona la riceva, per il ricchissimo, per il ricco, per l'ambiente, per chi ha delle serie difficoltà economiche. In Grecia sarà obbligatorio il vaccino dal 16 di gennaio, ma soltanto per chi ha più di 60 anni. E così anche in Grecia ci sarà una multa per i Novax, ma più leggera, 100 euro al mese, fino a quando non si deciderà di vaccinarsi. Quindi dici no, è praticamente come se avessi acceso un prestito, perché ogni mese hai una multa da 100 euro, un po' come un abbonamento che devi pagare. Ma in Grecia dicono, no ma mica è una punizione, è una tassa sanitaria, afferma il premier, come dire, visto che tu sei più soggetto a finire in ospedale, ti faccio pagare 100 euro, così se ci finisci ti paghi da solo, tra virgolette, i ricoveri con quello che hai pagato. Quindi tre paesi che sono già in, e stanno andando per l'obbligo vaccinale in autonomia. In Europa si chiedono perché non obblighiamo, non mettiamo l'obbligo, non c'è un accordo europeo dove in tutti i 27 paesi si obbligano le persone e intanto arrivano anche le zone rosse, ad esempio Olanda, Belgio, Irlanda e in tutti i paesi dell'est. Dubbi su questa variante Omicron, ma ancora la comunità scientifica non ha detto esattamente se è altamente trasmissibile, se è trasmissibile come le altre, se gli effetti, non gli effetti. E così intanto vedremo quello che succederà, vedremo se in Italia intanto il nostro paese ha già introdotto, come abbiamo visto, l'obbligo del vaccino per le forze dell'ordine, le forze armate, il personale scolastico, personale sanitario e poi c'è il super glim pass con una sorta di lockdown per i non vaccinati, ma si scopre che se una regione finisce in zona rossa il lockdown diventa per tutti. Quindi una sorta di presa in giro, inizialmente avevano detto no in Italia i vaccinati potranno essere liberi, i negozi non chiuderanno mai e poi si scopre che se una regione diventa, va in zona rossa, tutti sono a casa in lockdown. Mentre in zona gialla e arancione, lì realmente gli obblighi di restrizione sono solo per i non vaccinati. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Grazie e arrivederci. A presto.